Parti, parti, parti Prova un piede, però Adesso ci dà la carica Adesso ci dà la carica Carica quella... Carica, ha agganciato Tira... Tira la funzione Ah, 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 ah Non pota neanche la funzione Stiamo andando qui E se mi cade? Io voglio Oddio Oh, yeah, mamma Oh, che bel palaggio Guarda, lei, lei Si, bel lago Si, portano le mani Vienilo bene, vienilo bene Forza, mona Ma, con quell'abito da parte Ma, ragazzi, stai la faccia Io ero tutto davanti Troppo e bagno tutto Posso stoparlo? Non lo faccio anche dentro Oh, che carica Oh, che carica Ah, no, scusa Ma vengo fuori con la foto Nel telefono La foto, c'ho il telefono E l'ha fatto da basso Non lo so che da sola Non lo so Perché è abiso Ma se inquadrano il Paranaro, eh? No, no, no Se inquadrano tutta la... Se inquadrano tutta la... Dai, prego Lo faccio? Lo faccio? Lo faccio? Lo faccio? E' come diria una bella delusia per play All'unico la 3570 Guarda la sincione come uno Bello Bello Che veloce C'è la fissa, la cloro E' la morte Questa che merda che c'è arriva addosso Se... Questa che merda che c'è arriva addosso Se... Guarda, vorrei che venite così Guarda, vorrei che venite così Ma che ti ha fatto... Ma che ti ha fatto... E li prendi gli altri E li prendi gli altri E li prendi gli altri Complicato Questa Guarda Guarda S paste il film Guarda, guarda, guarda Eeeeee Regarda Vai, vi presto E satu G barbecue grazie del passaggio guarda c'è un uccello dentro la bocca del pesce guarda c'è un uccello tra le gambe grazie, grazie, grazie 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 video per le gambe hashtag facciamela ecco, ecco, adesso è picca vai sanete vai sanete fra aca vai sanete fra aca eccola a quanto siamo? a minuto e quaranta quattro minuti ben dai, quest'ora fa quattro minuti il paesaggio bello guarda che bello guarda che bello cambiamo però non ci sono aiuto no 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 Noi Noi